Qual è il ruolo dell'agricoltura in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile? È un ruolo particolarmente rilevante perché da un lato, noi lo sappiamo bene, lo sviluppo delle aree interne, lo sviluppo delle aree rurali è fondamentale per dare cibo alle popolazioni, per consentire anche di avere una prospettiva di sviluppo. D'altro canto anche perché l'agricoltura ha un ruolo eccezionale per la mitigazione dei cambiamenti climatici in atto, che noi sappiamo essere stato per la prima volta riconosciuto negli ultimi anni, penso a COP21 e rispetto al quale noi stiamo oggi operando con grande determinazione. Infine anche perché l'agricoltura è uno degli ambiti nei quali si gioca maggiormente la possibilità anche di andare a giocare la carta ai diritti, in particolare ai diritti di genere. Il 50% del cibo è prodotto alle donne, ma le donne hanno un 20-30% in meno di possibilità di accesso alle risorse. Allora ecco perché l'agricoltura è cruciale rispetto a una prospettiva di sviluppo equilibrato nel nostro mondo. Quindi cosa vuol dire oggi poterla misurare? È fondamentale perché non si fanno politiche se non si conoscono i dati e se non abbiamo indicatori precisi che siano coerenti nei diversi paesi del mondo, rischiamo costantemente di fare discorsi a vanvera e di non incidere effettivamente sui dati. Oggi abbiamo a disposizione, come non mai nella storia, una quantità di informazioni puntuali estremamente ampia. Al contempo dobbiamo fare in modo che siano leggibili e poter interagire con essi in maniera opportuna. In questo senso l'incontro odierno, l'azione che si sta facendo tra tutti gli esperti di statistica del mondo, nell'ambito agricolo in particolare, è per noi decisiva. È un punto fondamentale per rendere effettivamente l'agricoltura anche strumento politico, strategico a livello globale.